Io mi chiamo Enrico Oloschi, sono nato a Fiorenzo Ladarda e sono un vignaiuolo. Possiamo parlare di viticoltura eroica perché la pendenza supera il 30% abbondantemente. Mi piace, mi piace anche proprio controllare col trattore gli operaia, per dargli anche un po' il ritmo ogni tanto. Il vigneto più antico di Capoveri della mia tenuta è la Borella perché ha più di 70 anni. La Borella produce uva di malvasia di cambia aromatica. Rifletendo ho preferito dare importanza al valore dei ricordi che al valore economico e di conseguenza ho pensato di spostarmi alla produzione di Vinsanto. Grazie. 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 Grazie.